Ieri i carabinieri della compagnia di Tortona hanno arrestato Maria Aranca Boboc, diciottenne romena, in Italia senza fissa dimora. La giovane, con altri due connazionali, ha sottratto da un negozio del centro commerciale Oasi prodotti cosmetici per un valore di circa 850 euro. Sorpresi dal personale del negozio, i tre sono fuggiti nel piazzale antistante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo un breve inseguimento, sono riusciti ad individuare ed arrestare per furto la giovane. I due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le loro tracce. I carabinieri di Valenza hanno arrestato Sufi Mohamed, 32enne, cittadino marocchino. Residente ad Acquiterme, era ricercato dall'autorità giudiziaria del Marocco. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Alessandria. Resta in carcere Ilir Beti, l'imprenditore edile albanese, accusato di omicidio volontario plurimo aggravato. Deve rispondere della morte di quattro ragazzi francesi per l'incidente del 13 agosto scorso sull'autostrada 26 nei pressi di Ovada. Il GIP del Tribunale di Alessandria ha infatti respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai suoi difensori. Ubriaco al volante del suo Sufi, Il Beti aveva percorso contro mano 23 chilometri ad altissima velocità, urtando e disintegrando l'Opel con a bordo i giovani. Nelle indagini sarebbero stati ascoltati ben 13 automobilisti che avevano segnalato il Suva assistendo alla sua folle corsa. Da un primo esame tecnico da confermare risulterebbe che l'auto procedeva a oltre 250 chilometri orari. Il reparto di chirurgia dell'ospedale Mauriziano di Valenza tornerà nuovamente in funzione. La decisione è stata presa ieri al termine di un incontro congiunto tra il sindaco Sargio Cassano, il consigliere comunale Giuseppe Botta, i vertici dell'Asdra ed i chirurghi dell'ospedale. Vogliamo mantenere gli standard di qualità e sicurezza anche in ottemperanza all'abbattimento dei costi sulla sanità, ha spiegato il sindaco Cassano. Il numero delle operazioni, dalle 300 alle 400 l'anno, non cambierà ma sarà concentrata al venerdì o dilatata in altri giorni a seconda delle richieste. Il reparto dovrebbe riaprire già nel prossimo fine settimana con il personale che farà la spola tra Valenza e Casale. A questo proposito CGL e Cislewil hanno chiesto un incontro urgente ai vertici della regione Piemonte al commissario straordinario dell'Asdra di Alessandria. E per oggi da Alessandria è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci ai prossimi collegamenti.